Amma no, no viene a te hanno me ne vai cercare cosa. Dottombe. Dottombe. Ma quando... ...di che non pucero con la cosa non mi piace. Non mi va ne accasciare. No. Non togono. Dottombe. 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 Ora, ma i trai perché non dà l'altro? Noi giocano con le cose, si dice che ci sono stessi, si giocano. Questa è la piante trai e l'altro. Tutto il traio trai, l'arrivo a prendere perché sono fatti trai. Non ci diamo un po' di più. Non ci diamo un po' di più. Un po' di più. Vediolo, una buona dì, si passa in un po' di più.